Che merita una gentilezza? Chi la fa o chi la riceve? E' lì, è lì, è lì, è lì, cieco che mi trova alfabeto, poi con le donne erondose perché continui a parlare se non sto staccare la testa, però la tua testa la fermate perché non gli odori è lì, è lì, è lì, è lì, è lì, è lì. Allora 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 E' lì, è lì, è lì, è lì, cieco che mi trova alfabeto, alfabeto, poi con le donne erondose perché continui a parlare se non sto staccare la testa per perdere la tua testa la fermate perché non gli odori. Allora 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che merita una gentilezza chi la fa o chi la riceve. Che merita una gentilezza chi la fa o chi la riceve. Grazie a tutti.